Le finali di Coppa Italia come un regalo sospeso. Nel 2020 Trieste avrebbe dovuto ospitare la finalissima Scudetto della Pallavolo Femminile in partita unica, ma la pandemia fece annullare tutto. Quasi quattro anni dopo al Pallatrieste si giocheranno semifinali con Egliano Chieri Scandici Milano e finale della Coppa Italia dia 1 e la finale dia 2 il 17 e il 18 febbraio. Evento presentato dai vertici della Lega Volle Femminile nella sala consigliare del Comune di Trieste è presente il sindaco di piazza e il vicepresidente della regione Anfil. Un evento che non avrebbe bisogno di promozione, 4.000 biglietti già venduti per le finali di domenica, la 2 al mattino, la 1 al pomeriggio, 3.800 per le semifinali di sabato. Un territorio che con i nostri eventi non abbiamo utilizzato, diciamo così, però è un territorio che ha fame di pallavolo e quindi ci aspettiamo che ci sia il tutto esaurito in entrambe le giornate. Tutti i match della massima serie avranno la diretta TV, RaiPlay e RaiSport per le semifinali, Rai2 per la finalissima e per la Coppa Italia dia 2 ancora in corsa la Cidiata al Massons che si giocherà l'accesso alla finalissima di Trieste a Perugia nella gara secca in programma mercoledì.